E' un po' strano, non trovate? Strano? Tu senti una voce, una voce che tu solo puoi sentire e spunta fuori i misi spur pietrificata. Lo trovo strano. Pensi che avrei dovuto dirglielo? Assinante agli altri intendo. Sei impazzito? No, Harry. Perfino nel mondo dei maghi sentire voci non è un buon segno. Ha ragione, sai?